Buon inizio di settimana a tutti. Questi i principali titoli. In primo piano la politica con le elezioni amministrative. A Catanzaro sarà ballottaggio tra Abramo e Ciconte. Poi la cronaca, Ndrangheta, ucciso in Spagna Giuseppe Nirta. A Cosenza infiamme il fonte sul Busento. A Chiaravalle Centrale è tempo di bilanci ad un anno di amministrazione donato. Questo è tanto altro dopo la pausa, tra poco. Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Oggi in primo piano ovviamente la politica con le elezioni amministrative. A Catanzaro sarà ballottaggio tra Abramo e Ciconte. E dovranno attendere tutti il secondo turno i candidati e i cittadini dei centri calabresi che superano i 15.000 abitanti. Anche Paola, Acri e Palmi si ritroveranno alle urne il prossimo 25 giugno per scoprire chi saranno i nuovi sindaci. Per una panoramica generale del voto tra Catanzaro e Vibo, linea a Francesco Pungitore. Bene, iniziamo ovviamente il nostro riepilogo dalla città capoluogo, da Catanzaro, dove sarà ballottaggio tra il sindaco uscente Sergio Abramo per il centrodestra e lo sfidante di centrosinistra Vincenzo Ciconte. Il 39% dei consensi circa ha premiato Abramo al primo turno, mentre Ciconte si è fermato intorno al 30-31%, pagando peraltro pesantemente le dinamiche del voto disgiunto. Terzo posto per Nicola Fiorita e la sua proposta di cambiamento, per lui il 23% circa, non raggiunge il 6% il Movimento 5 Stelle, ma potrebbe comunque ottenere un seggio a Palazzo De Nobili. Passando in provincia di Catanzaro, niente quorum né a Satriano e né a Montauro, dove arriverà il commissario prefettizi. In entrambi i comuni c'era solo una lista in lizza. E veniamo invece agli altri comuni, dove il risultato è certo e definitivo. A Botricello, sindaco eletto e Michelangelo Ciurleo, con il 64% dei voti. A Caraffa, Antonio Giuseppe Sciumbata, con il 42%. A Cenadi si riconferma Giuseppe Teti, con il 63%. A Centra, che anche qui una riconferma, Fernando Sinopoli, che sfiora l'80% dei voti. A Isca sullo Ionio, Vincenzo Mirarchi, vice sindaco uscente e conquista, la poltrona di primo cittadino, con il 53% circa dei voti. A Olivadi, ribaltone politico, Nicola Malta scalza, l'uscente sindaco Renato Puntieri, 60 a 40 il rapporto numerico in termini percentuali. A Petrizi vince Domenico Mazza, ma sono solo 11 i voti di scarto, con lo sfidante Giulio Santopolo. Anche a San Vito, vittoria sul filo di lana per il riconfermato Sandro Doria, che supera Luigi Rubino per 21 voti. A Sersale, infine, Salvatore Tocchi e riconquisti il comune con il 50,34% dei consensi. Se ci spostiamo in provincia di Vibo Valencia, a Brognatura, il sindaco eletto è Cosmo Tassone, a Capistrano Marco Martino, a Fabrizia Francesco Fazio, quindi sconfitto l'uscente Minniti, a Pizzo Gianluca Callipo, a San Nicola da Crissa, plebiscito per Giuseppe Condello, con il 97% dei voti. A Spadola, Cosimo Damiano Piromalli e il neo eletto sindaco, infine, a Vazzano conquista la poltrona di primo cittadino Vincenzo Massa. E due note a corollario della nostra disamina elettorale. Una neo sposa ha votato a Catanzaro, in abito bianco e strascico, sorpresi, ma solo fino ad un certo punto, presidente e componenti del seggio numero 22, ubicato nel quartiere Santo Ianni, alla periferia della città, che dopo le formalità di rito hanno consegnato scheda e matita appunto alla neo sposa. E poi c'è una nota di cronaca. Un uomo di 48 anni è stato denunciato dalla Digos di Catanzaro per aver fotografato con il proprio cellulare all'interno della cabina la scheda elettorale appena votata. L'episodio è avvenuto in un seggio del centro storico del capoluogo. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è stato sorpreso nella cabina elettorale mentre scattava una foto alla scheda. Sul posto è intervenuto il personale della Digos, della questura del capoluogo, che ha denunciato l'uomo per violazione della legge sulla segretezza della espressione del voto. Il telefono cellulare del 48enne è stato ovviamente sequestrato. Con questo per oggi è tutto. La linea allo studio. Ed ora passiamo alla cronaca. Ndrangheta ucciso in Spagna Giuseppe Nirta. È stato ucciso alle prime ore di oggi in Spagna Giuseppe Nirta, 52 anni, originario di San Luca, già coinvolto nell'operazione Minotauro sull'Ndrangheta in Piemonte e con precedenti per traffico di stupefacenti. Sul suo corpo sono state trovate ferite d'arma da fuoco e da taglio. Dell'omicidio avvenuto nella comunità di Murcia si occupano le autorità spagnole. Il suo nome era finito anche nell'ordinanza del GIP di Milano Giuseppina Barbara, che il 30 gennaio scorso aveva portato all'arresto del PM di Aosta, ora sospeso, Pasquale Longarini e del suo amico imprenditore Gerardo Cuomo. Secondo l'ipotesi della procura meneghina, Longarini, venuto a conoscenza delle indagini della DDA di Torino e dei carabinieri del gruppo Aosta su Cuomo e Nirta, aveva avvisato l'amico che aveva così subito interrotto i rapporti con Nirta. Nel 2016 la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna di secondo grado a tre anni e otto mesi di reclusione per Nirta nel processo Minotauro. Un uomo di 72 anni è stato trovato morto inficcato nella sua abitazione di villaggio Mancuso a Taverna. Sulla morte dell'uomo indagano i carabinieri della stazione di Taverna, ma secondo la prima ricostruzione si tratterebbe di suicidio. I gnoti sono i motivi che avrebbero spinto l'uomo al tragico gesto, ma i militari non escludono alcuna pista e indagano a 360 gradi. In fiamme il ponte Busento a Cosenza. Sindaco occhiuto. Non è stata autocombustione. Spero fortemente che le fiamme che oggi hanno avvolto il ponte che collega via Benedicenti al viale Alighieri, causando ingenti danni alla struttura senza coinvolgere per fortuna delle persone, non siano di natura dolosa. Il sindaco Mario occhiuto interviene sul brutto episodio, è detto in una nota della portavoce, che è stato registrato in giornata nella zona sud di Cosenza e che ha visto un incendio dipanarsi attorno al caratteristico ponte di legno, costruito di recente sul fiume Busento, scenario estivo degli eventi all'aperto. Purtroppo, aggiunge il sindaco, dai primi rilievi effettuati sembra che il fatto non sia avvenuto per autocombustione. Gli impianti di video sorveglianza della zona aiuteranno le forze dell'ordine a stabilire se ci sono delle responsabilità e di conseguenza dei colpevoli. In quel caso il comune si costituirà certamente parte civile. L'amministrazione è impegnata ogni giorno in prima linea in un'azione di governo che non tralascia i numerosi interventi di manutenzione e riparazione che spesso si rendono necessari per lo scarso senso civico di chi si sente autorizzato a distruggere parti della città. Anche per questi motivi, in sinergia con Prefettura e Procura della Repubblica, abbiamo predisposto un piano per la sicurezza che prevede l'implemento di telecamere sul territorio, non soltanto per le indagini su atti criminosi, ma per la funzione di deterrente con lo scopo di prevenire appunto atti vandalici che vanno nella direzione opposta ai nostri sforzi. Nel realizzare una città più bella e vivibile, conclude Occhiuto, non consentiremo gesti selvaggi di nessun tipo. Viabilità negata, in diretta radio la giornata di mobilitazione del 17 giugno. RS98 sarà partner ufficiale della giornata di mobilitazione e protesta programmata per il prossimo 17 giugno a Serra San Bruno. Il media radiofonico seguirà in diretta l'intera manifestazione, promossa dal coordinamento unitario dei comitati, delle associazioni e dei sindaci delle Serre e delle Preserre Catanzaresi e Vibonesi, per dire no all'isolamento delle aree interne. Intorno alle ore 17 di sabato prossimo inizierà il raduno dei partecipanti in Piazza San Giovanni, dove saranno allestiti anche alcuni stand con prodotti tipici e gastronomici. A partire dalle ore 18 e 30, dopo il saluto delle autorità, prenderanno la parola agli organizzatori per spiegare il significato dell'ennesima giornata di impegno civile e democratico, finalizzata a mettere in evidenza la drammatica condizione di isolamento dei comuni dell'entroterra. Le strade provinciali chiuse, le statali in condizioni pessime, la trasversale delle serre ferma. E' questo il quadro complessivo che genera un disagio forte e diffuso, oltre che danni irreparabili all'economia locale. A seguire sono previsti spettacoli di intrattenimento e musica per vivere insieme una lunga giornata immersi nel proverbiale clima di ospitalità di Serra San Bruno. Sarà un'occasione importante per tanti cittadini che avranno la possibilità di partecipare concretamente alla mobilitazione in corso, per chiedere strade finalmente degne di questo nome, dall'Oionio al Tirreno, passando per l'entroterra. Gli organizzatori invitano fin da ora tutti i sindacati, i consiglieri regionali, i parlamentari calabresi, i sindacati, a prendere parte ad una manifestazione che avrà carattere unitario e pacifico e che non mancherà di evidenziare la condizione di inaccettabile marginazione cui è stato condannato l'intero comprensorio. Chiaravalle Centrale, il sindaco, in un solo anno abbiamo già ottenuto tanti risultati. E' tempo di bilanci per l'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, ad un anno esatto dall'insediamento della nuova maggioranza. Il sindaco Domenico Donato nei prossimi giorni illustrerà pubblicamente i tanti risultati programmatici ottenuti, lavorando in silenzio e in condizioni economiche difficilissime. Sono note a tutti, anticipa il primo cittadino, le vicende del dissesto. Eppure, questa amministrazione comunale ha saputo fare tanto con efficacia ed efficienza, riducendo sperperi e sprechi. Vorrei citare ad esempio i tanti interventi realizzati nel settore delle opere pubbliche e in particolare per l'armodernamento della rete idrica. Stiamo perseguendo l'obiettivo prioritario di ridurre le perdite in modo tale da diminuire le sborso nei confronti di Sorical con conseguente abbassamento delle tariffe future per i cittadini. In più, abbiamo posto in opera un chilometro di nuova tubazione per potenziare il serbatoio di località Bufalo, allacciato alle zone rurali. Passando alla manutenzione ordinaria e straordinaria della città, da oggi entreranno in servizio ben 25 unità lavorative nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Calabria per soggetti inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga. Andranno ad occuparsi di manutenzione ordinaria di edifici e strutture di proprietà dell'ente, manutenzione ordinaria della viabilità, manutenzione ordinaria delle aree verdi, servizi socioassistenziali e di assistenza domiciliare, servizi di supporto amministrativo. Un progetto importantissimo per un comune come il nostro che per varie vicissitudini, tra pensionamenti e tagli, era rimasto praticamente senza neanche un operaio in servizio. A breve partirà inoltre un piano di bitumazione delle nostre strade, da noi ereditate in condizioni pessime. Nel settore dei servizi abbiamo rimesso in moto una macchina burocratica ferma, aprendo il comune al dialogo con i cittadini come mai prima di oggi. Infine, a chi parla in questi giorni dei ruoli dell'acqua, vorrei ricordare che gli aumenti delle tariffe risalgono al 2013 e forse proprio in quella data si poteva e doveva dire qualcosa per venire incontro alle esigenze dell'utenza. All'amico Santo Sestito in particolare, che in questi giorni ha esternato in televisione il suo giudizio critico sulla situazione politica amministrativa locale, rivolgo un semplice invito a vivere più da vicino la vita del nostro comune e ad informarsi meglio sulle opere e i servizi che stiamo realizzando, visto peraltro che il suo partito era, è e continua ad essere organico a questa maggioranza. Ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco. Bentornati in studio, continuiamo con le notizie. Terapia contro il cancro, meeting su Genome Editing a Catanzaro. Anche l'Università di Catanzaro, con uno staff di suoi ricercatori specializzati, è impegnata per dare un futuro alla terapia contro il cancro. È quanto emerso da un evento internazionale promosso dall'Associazione Italiana e Culture Cellulari. È stato un evento di alto spessore tecnologico e scientifico, afferma Maria Teresa Di Martino, organizzatrice del meeting e componente del direttivo dell'ICC. Un momento importante di confronto e di crescita per tutti i partecipanti. Abbiamo focalizzato l'attenzione sul Genome Editing, un insieme di tecnologie emergenti che permettono di modificare stabilmente il DNA di una cellula, così da sostituire o eliminare specifici geni responsabili di malattie. È così possibile la correzione di alterazioni genetiche, sia in ambito sperimentale che in prospettiva terapeutica. Il Genome Editing rappresenta, pertanto, una rivoluzione nella ricerca biomedica e fornirà un contributo enorme alla personalizzazione dei trattamenti in oncologia medica e in altre discipline. Gli argomenti trattati, aggiunge Di Martino, hanno suscitato grande attenzione. Questa sera, speciale Calabria Vera, sugli schermi di Teleionio. Alle ore 21, la manifestazione che si è svolta giovedì scorso a Chiaravalle Centrale, con la presenzazione del libro di Massimiliano Capalbo, La terra dei recinti, e la consegna dei premi Calabria Vera 2017. Premi che hanno celebrato l'impegno nel lavoro, nel sociale, nella cultura, nell'amministrazione della cosa pubblica. Bene, è stata una serata bellissima, devo dire che in questo momento difficile e impegnativo di ricevere questi consensi, questi complimenti, non fanno altro che riempirmi di gioia e soprattutto, come dicevo prima, una responsabilità. Poi, il messaggio che voglio dare, soprattutto ai giovani, come ribadisco e ripeto, c'è, l'imprenditore non si nasce, si diventa, con la voglia, con la passione e con il credici. E anche quando ci sono i no, anche i no ti fanno crescere. Grazie. Appuntamento dunque oggi, alle ore 21 circa, con lo speciale Calabria Vera su Teleionio. Inaugurata al Parco, la mostra, il Giardino delle Muse Silenti, il Presidente della provincia insieme allo scultore Gianfranco Meggiato. Non solo una mostra di straordinarie complessità e valore artistico, ma anche una profonda riflessione di carattere sociale che non si ferma a una pure questione di forma e bellezza. Con il Giardino delle Muse Silenti, la grande installazione ospitata dal Parco della Biodiversità Mediterranea, nel Parco Internazionale della Scultura, inaugurata ieri pomeriggio e visitabile fino al prossimo 1 ottobre, lo scultore Gianfranco Meggiato si confronta con argomenti di forte rilevanza, come quello estremamente attuale della guerra e delle sofferenze che colpiscono le popolazioni civili. Il complesso progetto del maestro Meggiato testimonia ancora una volta la vitalità e il protagonismo della città di Catanzaro, che grazie alla riuscita collaborazione con la fondazione guidata dal notaio Rocco Guglielmo, è diventato uno dei poli di riferimento culturali più significativi dell'arte contemporanea, ha affermato il Presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno, aprendo la conferenza stampa di presentazione della mostra che si è tenuta nella sala Giuditta Levato del Musmi, alla presenza, oltre che dell'artista, del curatore Luca Beatrice, del direttore artistico del Museo Marca Rocco Guglielmo, di Domenico Piraina, direttore del Palazzo Reale di Milano, nonché componente del Comitato Scientifico del Marca e della Presidente della Fondazione Armonie d'Arte. Questa mostra nasce per uno scopo ben preciso, cioè qui è nata la cultura, perché c'era la Magna Grecia, in questo momento la cultura è in pericolo, per cui fare una fortificazione per difendere l'arte e la cultura, ricominciando da qui, mi è sembrata una cosa molto importante e simbolica. Com'è strutturata la mostra? Abbiamo quattro sedi espositive, c'è il parco della biodiversità, il Musmi, il Marca e Scolacium, per cui una mostra per me anche molto importante ed impegnativa. Avrà avuto modo di visitare il nostro parco? Cosa ne pensa? È uno dei gioielli, secondo me, dell'Italia, dovete esserne fieri, perché è un parco così, con questi pezzi di colleghi molto importanti, non si trova facilmente, per cui dovete veramente esserne fieri e conservarlo nel modo migliore possibile. Ritornando alla sua mostra, può darci qualche informazione in più? Ma è una mostra che è molto simbolica, parla di ricerca interiore, di labirinto, per arrivare a quella scultura grande, bianca, che è il punto di arrivo, che è il pensiero libero. Dobbiamo imparare a superare le difficoltà per crescere, per arrivare ad un punto di elevazione spirituale. Questo è lo scopo della vita, alla fine. Sì, sono molto contento, perché siamo riusciti ancora una volta a mettere al centro dell'offerta culturale la nostra città e il nostro sistema museale. La mostra di Meggiato oggi è un fiore all'occhiello, perché riusciamo a valicare ancora una volta i confini della provincia e i confini della Calabria. L'altro giorno c'era presente tutta la stampa nazionale che si occupa di cultura, e questo significa mettere veramente la città capoluogo della Calabria al centro della vita culturale del Paese. Abbiamo sempre detto che con il sistema museale della provincia di Catanzaro riusciamo a far diventare Catanzaro veramente un luogo di produzione culturale. Questo grazie a Rocco Guglielmo, grazie alla grande sinergia che abbiamo sviluppato tra la provincia di Catanzaro e la Fondazione Guglielmo che siamo riusciti a mandare un segnale di forte produzione culturale. Di questo ne sono orgoglioso e penso che i cittadini di Catanzaro, i cittadini della Calabria, devono essere fieri e orgogliosi di questa struttura del Parco della Biodiversità e del sistema museale della città di Catanzaro. È partito il campo estivo a Badolato a cura dell'Associazione Il Sorriso, il servizio di Franco Laganà. Giuseppina Rachele, presidente dell'Associazione Il Sorriso, prende ufficialmente via il campo estivo. Com'è organizzato? Abbiamo aperto questo campo perché nel passato noi avevamo già una struttura dove è ancora idonea nel borgo e quindi abbiamo fatto questa associazione dove noi daremo l'opportunità a questi ragazzi a fare il campo estivo e abbiamo aperto dal 5 giugno e aperto a chi volesse aderire e faremo giugno e luglio. In seguito avremo delle giornate con gli operatori con un'assenza sociale dove noi li porteremo al mare. Abbiamo una struttura idonea per questi ragazzi. Ringrazio molto il proprietario della struttura, Mario, dove ha aderito in questa situazione molto fattibile. Ci ricrede anche lui in questo progetto e l'ha dato anche in una situazione di beneficenza. Ci sono anche i ragazzi che vengono dalla provincia di Reggio? Sì, abbiamo Caolonia, Riage, Monasterage, Guardavalle, Santa Caterina e Badolato. C'è anche una grossa manifestazione che si svolgerà nel borgo con la presenza dell'assessore regionale? Sì, il 18 giugno alle 5 sarà rappresentante l'assessore Laro Cisano in cui daremo dimostrazione anche con il territorio, con i nostri sindici dei comuni la realtà di questa situazione nel sociale che siamo abbandonati dal Dio e dal mondo. E quindi prenderemo questa iniziativa proprio per far vedere la situazione che abbiamo nelle famiglie e di questi ragazzi. Un ruolo importante viene svolto dall'assistente sociale dottoressa Princi. Ecco, come si svolgeranno le lezioni laboratori? Allora, come diceva la Presidente qui al campo estivo in questa struttura grazie anche all'affiancamento di figure professionali come le educatrice e dei volontari appunto questi ragazzi durante il giorno saranno guidati in attività ludico-ricreative che hanno come punto fondamentale cercare di stimolare la loro autonomia personale e poi di fatto ci sono giochi e laboratori verranno portati al mare mangiano qui nella struttura stessa viene preparato il pranzo e non da ultimo il trasporto si prendono a casa e vengono riportati a casa i ragazzi quindi come anche un appoggio forte alle famiglie soprattutto in questi mesi che i ragazzi essendo i gentri chiusi rimarrebbero a casa tutto il giorno invece così hanno un modo di poter partecipare di stare insieme e di fare un'attività proprio molto importante per loro importante anche la presenza di alcuni genitori che sono vicini le famiglie hanno un grosso supporto da parte della famiglia che appunto hanno accolto questa nuova esperienza con grande entusiasmo perché tutti questi ragazzi facevano parte della struttura che già esiste come dicevamo prima nel borgo e quindi hanno veramente ripreso a frequentare il centro estivo con grande entusiasmo e felicità perché comunque si sentono a casa Un ruolo importante viene svolto anche delle amministrazioni di Badolato e Guardavalle Sì sì abbiamo molta partecipazione dal sindaco di Badolato che ci sta sostenendo come anche il sindaco di Guardavalle perché giustamente abbiamo un buon gruppo di Guardavalle e quindi io ringrazio anche loro per avermi appoggiato molto sulla situazione e il sindaco di Badolato è molto entusiasmo in questa iniziativa e lo ringrazio Quasi tutti i partecipanti sono del portatore di handicap Sì sono ragazzi che hanno delle problematiche portatori di handicap sì la struttura è anche aperta a qualsiasi altro tipo di persone svantaggiate quindi disagio anche sociale comunque per questo tutte le attività mirano al ripristolo dell'autonomia personale comunque Daniela Trapasso Assessore ai servizi sociali di Badolato l'amministrazione vicina a questa importante iniziativa con questo campo estivo per i ragazzi disabili Vabbè non potrebbe essere diversamente no quando si lavora e si crede nel sociale sotto qualsiasi aspetto esso poi si manifesti non può un'amministrazione comunale non può che non abbracciare se poi diciamo ci si riferisce al campo della a me non piace nemmeno chiamarla disabilità ma diversamente abilità insomma allora è un obbligo morale prima di tutto e poi anche istituzionale noi siamo felicissimi che come dire il centro di accoglienza per diurno San Domenico abbia ripreso le sue attività mancava a Badolato e nel comprensorio forse insomma un po' più vicino a Badolato una situazione del genere da parte dell'amministrazione c'è la massima disponibilità e collaborazione perché crediamo fermamente anche in questo e quindi buon lavoro buona riapertura e niente noi siamo qui chiaramente un valore aggiunto anche per l'intera comunità di Badolato presente a questa apertura del campo estivo dell'associazione Il Sorriso il sindaco di Badolato Gerardo Mannello e il sindaco di Guardavalle Pinussia un'iniziativa molto importante che qualifica il territorio certo è un'iniziativa che va innanzitutto sostenuta dai sindaci che vede coinvolti e noi quanto prima faremo una passarella proprio per accedere al mare con un finanziamento che ci ha concesso la regione Calabria di 10.000 euro e quindi ritengo che questa è proprio un'iniziativa meritevole che da tanti anni che qui non si fa una cosa del genere va sostenuta l'associazione Il Sorriso perché è una di quell'associazione che si occupa nel sociale per gente che purtroppo è stata sfortunata nella vita quindi cerchiamo di stare proprio vicini Vicina a questa associazione l'amministrazione comunale di Guardavalle da Guardavalle ci sono molti ragazzi che frequentano questa associazione purtroppo sì dico purtroppo perché parliamo di disabilità e quando come dice lei il numero è elevato vuol dire che Guardavalle ha anche questa alta percentuale di disabilità che però è sempre vista in modo benevolo dall'amministrazione e sempre vicini lo stiamo facendo da anni e continueremo a farlo al di là poi delle associazioni dei gruppi e delle volontariate è importante che la sensibilità da parte degli amministratori sia proprio vicina a queste persone che purtroppo sono diversamente abili e che hanno bisogno del nostro aiuto ed anche a Davoli a cura dell'amministrazione comunale è partito il campo estivo il servizio di Saro Gioitta mister Lentini oggi parte il campo estivo qui a Davoli Marina sì oggi come da bando fatto dal comune di Davoli parte questo campo estivo che parte da oggi fino al 14 luglio impegna i bambini da 6 a 14 anni frequentando la scuola primaria secondaria del comprensorio di Davoli ma non è semplicemente fatto per il comune di Davoli è anche una parte è destinata anche ai ragazzi e alle ragazze sempre della stessa fascia d'età del comprensorio è un'attività che si fa per il secondo anno già l'anno scorso è stata un'esperienza molto positiva quest'anno è stata riproposta siamo nel Lido nello stabilimento di Lido Golden ha dato la disponibilità su questa struttura e contiamo di far divertire i bambini nel corso di questo mese quanti sono i bambini e che attività fanno qui dalla mattina al pomeriggio allora i bambini per adesso ci giriamo intorno a una cinquantina di bambini comunque siamo all'inizio il primo giorno per cui come l'anno scorso le iscrizioni poi nella prima settimana sicuramente tenderanno a aumentare le attività variano dall'attività motoria all'attività ludica ricreativa all'attività sulla spiaggia per quanto riguarda calcio parla a volo attività che riguardano la riproposizione di antichi giochi e poi tutti quei giochi di manualità e oggettistica e hobbystica che contiamo di riproporre nel corso di questo mese i bambini mangeranno qui allora noi come attività tenendo conto del bando è stato fatto per un bando i bambini vengono dalle 8 e mezza e finiscono alle 12 e mezza si sta facendo una convenzione con lo stabilimento balneare per consentire pure ai bambini che vogliono ai genitori che danno questa disponibilità a far restare qua il lido per il pranzo però questa è una convenzione che viene fatta a parte questa era l'ultima notizia grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti